Infrastrutture materiali e immateriali per il turismo. Sardegna, destinazione europea. Questo è il titolo del dibattito organizzato dall'Associazione Sardegna Europa durante il quale si parlerà di turismo. L'appuntamento è stato fissato ad Alghero per venerdì 8 settembre alle ore 18 nel cortile della Facoltà di Architettura. L'iniziativa sarà introdotta dai saluti del sindaco di Alghero Mario Bruno e vedrà tra i relatori l'assessore regionale al turismo Barbara Argiolas, il consigliere regionale del PD Salvatore De Montis e Luigi Lotto, presidente della Commissione regionale turismo, oltre a diversi professionisti. Concluderà i lavori l'europarlamentare del Partito Democratico Renato Soru. Un incontro in cui, dopo le relazioni, si darà spazio al pubblico per un momento di confronto su tematiche particolarmente sentite dalla popolazione e in particolare dagli operatori economici del settore turistico.